Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi faccio un video direttamente dal fiume, infatti io galleggio nell'acqua. No, non è vero, sono sul molo del fiume di Drammen, che è appunto dove abito io in Norvegia, che è a 40 km da Oslo circa. Questo video è su cosa pensano i norvegesi degli italiani. Bisognerebbe chiedere a loro, io glielo ho chiesto direttamente o mi hanno detto loro, tramite l'esperienza dei miei studenti che imparano l'italiano, ma loro sono comunque una nicchia perché loro adorano l'Italia, amano l'Italia, quindi amano anche di conseguenza gli italiani. Però mi è capitato che loro facessero delle battute che faceva intravedere un pochettino quelli che sono gli stereotipi, che loro comunque credono a un po' gli stereotipi degli italiani, che gli italiani sono molto rumorosi, sono piassosi, parlano ad alta voce, non so per esempio non sanno guidare o comunque guidano come dei pazzi, soprattutto mi hanno detto a Napoli o a Roma, che parcheggiano le macchine, e insomma mi hanno detto spesso delle cose che in realtà sono vere, ma spesso anche abbastanza stereotipate degli italiani. Quando io dico che sono italiana, loro mi prendono su, ah ma sei bellissima l'Italia, meravigliosa! Sono ovviamente stati a Roma, Firenze, spesso e volentieri hanno la casa in Italia, soprattutto gli studenti dove io insegno appunto italiano, imparano l'italiano proprio per poter parlare con gli autoctoni quando arrivano in Italia, perché dicono che gli italiani non sanno l'inglese, quindi dobbiamo imparare l'italiano se vogliamo fare amicizie o se vogliamo comunicare con le persone che vivono là. Loro hanno case soprattutto in posti non famosi e non turistici, per cui in piccoli paesi delle Marche, in Liguria, nell'entroterra Ligure, non nelle Cinque Terre per esempio, nei posti più famosi, no? A loro piace comprare le case soprattutto in campagna, anche in Piemonte, vicino a dove ci sono dei vigneti, sta passando nel frattempo una barca, non so se sentite il rumore comunque. Quindi i norvegesi in generale secondo me, secondo me adorano l'Italia e gli italiani, però hanno ovviamente degli stereotipi, hanno comunque un'idea abbastanza stereotipata dell'italiano. L'italiano è casinista, l'italiano è molto molto socievole, anche troppo gesticola sempre quando parla. Mi è capitato una volta che sono andata a una festa con degli amici e uno mi fa Yara, ma tu conosci un mafioso? E io ho detto, scusa cosa intendi? Perché, cioè, a parte che i mafiosi non è che vanno in giro con il cappellino con scritto mafioso, non è che si può capire molto bene. Io gli ho spiegato che i mafiosi in generale, soprattutto in termine più moderno della cosa, sono delle persone che delinquono, che fanno delle attività illecite, non è che hanno proprio l'anello, la coppola, il sigaro in bocca, come forse si immaginano loro. Io gli ho detto, no, non credo di conoscere i mafiosi, ma anche se conoscessi qualcuno che è mafioso, magari non lo riconosco, non lo so. Insomma, gli ho spiegato un po' che la mafia, nel concetto che hanno loro con il cinema americano, è un po' cambiato, magari, negli ultimi anni. Comunque, spesso mi chiedono, per esempio, se c'è mafia in Italia, se la corruzione c'è anche nei posti pubblici, o se mi è capitato di avere a che fare con la corruzione, cioè vedere delle attività illecite. Hanno proprio questo concetto, forse che in Italia ci sia molto, molto, appunto, a situazioni di questo tipo, di corruzione, di tangenti, di illecito. E io gli ho risposto che sinceramente no, non mi è mai capitato, ma perché io probabilmente non lavoro in un settore dove, insomma, girano molti soldi, non ho fatto, lavoravo prima in un'agenzia di comunicazione, non mi è mai capitato di vedere illeciti di questo tipo. Certamente esistono, certamente non posso dirgli che in Italia tutti pagano le tasse, tutti stanno bene, nessuno fa le tangenti, perché non è così, purtroppo. Però loro hanno proprio un'idea come se tutto, qualsiasi minima cosa, dal negozietto sotto casa al grande business, sia legato comunque a qualcosa di magna magna. Io credo che in generale i norvegesi amino gli italiani, amino l'Italia in generale, e ovviamente, come noi abbiamo dei preconcetti nei loro confronti, che loro sono freddi, che loro non sanno che, una base di realtà negli stereotipi c'è sempre, però spesso e volentieri magari ci si confonde, o si tende un po' a generalizzare, non è così per tutti i norvegesi, non è così per tutti gli italiani, insomma. E quindi niente, vi saluto con questo video, con questo clima bellissimo, sono le 8 e un quarto di sera, e oggi è l'11 luglio, le giornate si stanno accorciando, non sono più lunghe come una ventina di giorni fa, che veramente arrivava la luce fino a mezzanotte e mezza, anche qui a Oslo, a sud della Norvegia, immaginatevi a nord della Norvegia, è sole di mezzanotte, per mesi, per mesi no, settimane hanno sole e mezzanotte. Comunque volevo farvi vedere questa location spettacolare, da cui ho deciso di registrare alcuni video, in pace e con calma, a quest'ora della sera. Un abbraccio, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, al prossimo video, ciao!